Grazie 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 la più grande conferenza dell'Unione Europea. Questa è una delle più molte conferenze in tutto il mondo, che è l'Islamo. L'Islamo significa peace, e la maggior parte dei islamici, e la maggior parte dei islamici sono soffermi. La OIC, la maggior parte dei islamici, i Saudi Arabia, Qatar, i Dubaï, e le cose che quindi sono sono molto riche. Ma questo riflesso sui i maggiori pochi, gli islamici? We know Indonesia is a rich country, but there is a lot of poverty as well there. But OIC, the Islamic country, is coming together. Is this real? Whether the Islamic countries, we are real to each other. Why the Turkey president don't want to come to this conference? Because the Islamic countries, many of them, are not cooperated. The Western world, we don't call them the Christian countries or the pagan countries, no. But we all know that these Islamic countries, most of them, are working with those countries than even the Islamic country. So there is an infight. There is an infight. So the poor Gambia is now on the surface of the Islamic conference to host it without any respect. Because they would not have any respect from the Saudi kingdom. They would not have any respect from the Qatari. They would not have any respect from the Dubai. Because they have to subdue themselves to those people. Because these are the people who can give them the money to organize this. But now, will corruption be found after the OIC? And where is our Radisin Blue Five Star Hotel? Where is the Radisin Blue Five Star Hotel? You see Gambia. You see Gambia. You see Gambia. You see Gambia. Because Silo is important. Yes. 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 Silo is important. It's part of communication. It's a... It can make the Gambia better in terms of business, in terms of reaching to each order. So these are good things. But they... Now, Alajube, OIC has been organized. the population of Gambian people are not having electricity. It is because the area of OIC. Now, suppressing the Gambian people. Gambian people are like a friend of mine. They have 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 a friend of mine. Because of the OIC canal. So electricity is a concentration of OIC. It is an oversight. Now, suppressing your own Gambian people. The American Erdogan, who is serving his country people diligently, will come to such a meeting? It's not an Erdogan. You see, I have a friend in Germany. I am a friend of mine. My friend of mine is a friend of mine. Erdogan è stato fatto in Cologne è stato fatto in Cologne la maggior parte della mosca in Europa è in Cologne, in Germania è stato fondato da Erdogan e il governo è stato fondato da Erdogan Israel è stato fondato da Erdogan Israel è stato fondato da Erdogan Israele government was working hand and glove With the kingdom of Saudi Arabia Moby Ewo Jijan With the kingdom of Saudi Arabia Namanke Katati Katale kablo kabbalang Kabbalang Israel buru Kabbalistain fasa openly Toki Kalole kabbalang Kabbalang Israel fasa openly Saudi Arabia Bindi backbone Amankiko Islamu Saudi Arabia No Bari Rasulu bota jeleto Ndela Ndela kakamaka lejeko Atele muna famferenda Israele Islam Bari makala Islamu mulu Ani maka mili marata Saudi Arabia la masa kundala Walu manke kilinti Al-Islam banko ljube Ibe mune enjoy ka Islam banko lye mune soto Say ni OIC kata banko minka Mbeka jelet At least Ika transformation But kwamako je Mankikino Would corruption be found after this OIC Will the ganvia government Come out Kamaitane niko o che gli auditori? In fact, will they hire an international audit body to do this? Because in Gambia Audit Office non è un problema. But the Auditor General non è un problema. 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 Imagine se non c'è un problema. Il CEO di OIC, Mr. Diba, non è un problema. Non è un problema. il Ministro di Finanza in Abuja in Nigeria è un governo di foreign officer attack. Why, Gambia, you people are so ungrateful? Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. the Nigerian government to thank us. That was the time ilia fatto back in Nigeria e ho detto Questo ma state state come通o tempo comeva Il mandato Il ha detto la mia Ministeria di Agricola è finita. Questa è il quale acc những nomi che non fa la florezza della Italia. Let them produce la Bill of Leading. La Bill of Leading è finita. La Ministeria di Agricola con la Bill of Leading è finita. Il quale è la florezza della Italia? Il quale è finita. Chi non è finita? Chi non sta perché è stata ancora una cosa? Chi non ha dovuto fatala. C'è questa cosa che non ha mai avuto il quale è finita. Lui adesso ci sono i cammini. Quindi noi ci sono i amici due delle persone che sono i amici. Ci sono i amici. C'è un amici di amici il nostro corpo. E' un amici di amici. E' un amici di amici. Perché gli amici? E' un amici di amici di amici di amici. E' un amici di amici di amici di amici di amici. Alla in nome di amici di amici. Nel DIC s'arri bani woce. Si vedi una cosa stessa per indietrti nella Triconetaria non lo sopprezzo! Noi in ad ogni di questi arabi a deepnati se si vedi una ragazza che vede la mia cazza se si vede la mia banca non dimenticare non c'è un conto non lo so che per quanto c'è non dimenticare i raggiare non era più cazgare e non ci sono i ragazzi non dimenticare Non c'è l'elemento, non c'è l'elemento, non c'è l'elemento. 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 Non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento, non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento, 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 non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento. Non c'è l'elemento. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 che ci siamo vivi in. Questo è il nostro campo che siamo vivi in. Non ci sono i nostri amici. Voi la città che non ci sono i nostri amici, perché i nostri amici dei amici e i nostri amici, non ci sono i nostri amici. Non ci sono i nostri amici, non ci sono i nostri amici. La città che si è arrivato a un altro campo, dopo la città, lo spero di essere. Lo spero di essere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.